ciao a tutte ragazze bentornate sul mio canale oggi sono tornata con un nuovo video di nail art allora notatosi che tra pochi giorni il mio canale compierà un anno ho deciso di realizzare nail art appunto a tema cioè per appunto per festeggiare questo compleanno e sono andata ad applicare la base questa qui nuova dell'avon poi sull'anulare questo smalto giallo neanche il numero non si legge più appunto per riprendere il colore del canale perché sono andata a vedere la foto è gialla cioè spunta con il colore giallo e sulle restanti dita questo smalto qui blu elettrico è il numero 336 che adoro e l'ho abbinato bene con il giallo perché comunque stanno bene ora prendiamo un pezzetto di carta stagnola e andiamo a metterci sopra alcune gocce di smalto giallo poi con uno smalto trasparente andiamo ad applicare un brillantino qui a fianco appunto giallo ecco il risultato dell'altra mano qui in fotogramma non si vede moltissimo bene il brillantino ma comunque c'è ed è giallo e niente spero a ora mi sto già dimenticando andiamo a mettere il top coat il solido ecco qua questo è il risultato finale dell'anulare se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto io vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao